Abbiamo verificato stamattina, sì, ci sono alcuni piccoli interventi ancora da completare, soprattutto in una delle due aule che ospitano i bambini della scuola del Doccio, però mi pare che la soluzione trovata sia quella più idonea per rispondere a un'esigenza che è venuta fuori in questi ultimi mesi. D'altra parte quella scuola è una scuola per l'infanzia, è nata per questo, con ambienti adeguati e credo sia anche logico che in una situazione d'emergenza come questa sia stata quella la soluzione. Mi pare che anche l'adattamento da parte dei ragazzi sia nella fase iniziale, ma per quello che ho visto mi pare non abbiano problemi ad adeguarsi a quegli ambienti, anche perché non c'è solo l'ambiente interno ma anche l'ambiente esterno, è molto diciamo sì confacente alle esigenze di classi di quell'età, quindi si spera che anche con il trasporto scolastico si vada al regime in tempi rapidi, stamattina i bambini erano pochi ma è naturale che il primo giorno si viene generalmente accompagnati da genitori e che eventualmente se ci fossero problemi li aggiusteremo in corso d'opera, però mi pare che la partenza sia stata più che buona. Mentre i lavori alla scuola del doccio? I lavori alla scuola del doccio stiamo appaltando la progettazione degli interventi, vedremo come realizzare questi interventi, quale sarà la natura dell'intervento stesso perché non sappiamo ancora se durante la progettazione le esigenze prevederanno la demolizione completa o la ristrutturazione dell'edificio oggi esistente.